...all'ufficio sport già parecchi mesi fa, nel senso che guardando gli impegni del palazzetto dello sport avevo visto che era stato richiesto e mi avevo chiesto all'ufficio sport di mostrarmi l'iniziativa e me ne avevano parlato e mi dispiace non aver partecipato alla prima edizione perché oltre ad essere assessore sono mamma di due bambini piccoli quindi sicuramente gli sarebbe piaciuto partecipare. Dal punto di vista pratico questa iniziativa può anche essere un tavolo di prova per l'assessorato dello sport e le manifestazioni e anche per vedere che cosa si può fare nel nostro palazzetto che sicuramente è un buon volante turistico per la nostra città quindi da parte nostra massima disponibilità sotto questo profilo. Sul merito dell'iniziativa immagino che poi voi magari avrete dei dettagli maggiori quindi per me ovviamente è un piacere poterli ospitare all'interno del palazzetto e trovare un'iniziativa che in qualche modo non è organizzata dal comune ma ha un risvolto sociale molto importante quindi personalmente vi ringrazio come amministratore e anche come mamma. Grazie. Grazie. Grazie.